Per la categoria Green Retailer, premio allo spiccato orientamento del punto vendita all'offerta di materiali e sistemi in grado di migliorare il risparmio energetico e utilizzare le risorse energetiche rinnovabili. Ecco perché Green Retailer. Consegna il premio Davide Cattaneo, coordinatore area edilizia e architettura del gruppo Tecniche Nuove. Eccoci qua. Anche la premia è spalla molto per quanto riguarda il quiz perché ti ho visto partecipare. Parteciperà. E allora, esatto, vince questo meraviglioso premio Green Retailer, vince Bio Market SRL. Bio Market SRL. C'è qualcuno di Dio, un grande personale. Stà fatto. E non c'è nessuno, può ritirarlo qualcun altro in quanto usare, c'è qualcuno di Firenze. C'è, c'è, Francesca, dici che c'è. C'è, di Marti. Eh? Oppure uno di Rancuzione. C'è qualcuno per Bio Market? C'è. C'era, ma... C'è nel tavolo. Mario. 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 Mario, ritirà. Io ho recuto. Grazie, davvero. Ritira il conto Marcia. Dovrà fare il presento di Mario Market, sì? Benissimo. Ecco. Qui, ecco. Facciamo, mettiamo bene in evidenza che si tratta del premio tra loro. E lo conserviamo a Drami di Casaporti. Grazie. 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 Grazie a tutti